Per Charles Mayer la crisi degli anni 70 è una crisi sistemica, come quella degli anni 10 e degli anni 30. Quindi una crisi complessiva, una crisi come abbiamo visto che tocca vari aspetti. E io penso che questa sia una tesi forte, significativa, che naturalmente da un punto di vista didattico anche la più difficile poi da utilizzare, perché che facciamo? Parliamo in continuazione degli anni 70 e raccontiamo tutto il sistema. È una crisi, qui vediamo degli aspetti diversi, della società industriale, il famoso studio di Daniel Bell sulla società poi post-industriale. È una crisi demografica, il Club di Roma partiva dalla crisi demografica per aprire però a tutto il discorso che poi darà luogo alle culture dell'ecologia e così via. Per la trilateral, questo sembra paradossale, per la trilateral è una crisi democratica, è una crisi della democrazia che è incapace, ora molti pensano che la trilateral lavorava per la crisi democratica, ma se vuoi andate a leggere le analisi che faceva, beh, era un'analisi in cui emergeva la difficoltà della democrazia di fronte a una società in cambiamento come quella degli anni 70. La percezione che si ha della crisi è tuttavia di una crisi di carattere globale, tant'è vero che nel momento della crisi petrolifera nessuno pensa, appunto, che sia una crisi che finisce lì, quelli che sono più pessimisti. E nel corso di tutto quel decennio è questa idea di una crisi di cui non si capiscono bene tutti gli elementi, ma che è vista come crisi globale. Il fatto stesso che questo fosse considerato vero ce lo dimostra il fatto che nel 1974 c'è il primo G6, perché gli stati sono consapevoli di una nuova interdipendenza tra di loro e quindi di una nuova fase di globalizzazione, come oggi chiamiamo, che nasce, che in parte è dovuta alla crisi e alla fine del sistema di Bretton Woods, eccetera, ma che deve costringere gli stati a ridefinire i rapporti fra di loro.